Buongiorno, Erika Zanon, responsabile dell'ufficio stampa della Fondazione Aquileia. La Fondazione Aquileia è un ente istituito nel 2008, partecipato dal Ministero Beni Culturali Regione Friuli-Venezia-Giulia, Comune di Aquileia-Arcidiocesi di Gorizia, nato per promuovere lo straordinario patrimonio archeologico di Aquileia. Aquileia è una città fondata dai romani nel 181 a.C., divenuta patrimonio dell'umanità dell'UNESCO nel 1998. E' un sito immerso tra la storia e la natura che permette quindi di godere della cultura e di itinerare nel verde. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!